Totale vicinanza e solidarietà. Mi recherò nelle prossime ore a incontrare il ragazzo, a visitarlo. Ho sentito più volte la madre stamattina, che tra l'altro conosco, è una professoressa molto impegnata in città e manco a farla apposta, qualche giorno fa abbiamo fatto un dibattito insieme ad Arzano dove si parlava anche e soprattutto di questi temi. Fatto gravissimo in audito, ho anche chiamato personalmente il questore, che anche l'ho sentito assolutamente sulle stesse posizioni in questo momento da parte di tutti e quindi ha garantito come sempre massimo impegno investigativo. È davvero sempre di più un coinvolgimento che dobbiamo mettere in campo da parte di tutti, per evitare che ci siano altre vittime innocenti ed anche per scongiurare che altri figli di questa terra possano prendere delle strade assolutamente inaccettabili. Quindi è una sfida che deve vedere impegnati tutti. Il sindaco di Napoli è impegnato in prima linea, stiamo facendo davvero tanto, ma altre proposte interessanti metteremo in campo con l'inizio dell'anno nuovo. Per ora vicinanza assoluta al ragazzo, ci saranno tante iniziative, anche in prefettura ne parleremo venerdì, so che c'è anche una grande mobilitazione di tanti ragazzi della nostra città, quello che è accaduto è davvero inaccettabile, inaccettabile che accada ovunque ma non deve veramente accadere in questa città, una città che ha un numero enorme di bambini, di ragazzi, ai quali si sta offrendo anche una grande alternativa di vita in questa città, la strada della cultura, la strada del turismo, della bellezza, del lavoro. Una città in ripresa è davvero un'immagine di ragazzi così giovani che sembrano di avere il volto della morte, quindi è qualcosa che veramente non si può accettare. La mamma ha detto, e poi le forze dell'ordine indagheranno su questo, ha detto che questi ragazzi hanno agito per farsi forti agli occhi di un boss. Quanto la preoccupa questo atteggiamento? Ma l'ha detto anche a me in una lunga conversazione. A me preoccupa molto, ma non solo a me. Io ho lanciato un po' per primo questo tema, questo tema dell'emulazione. Vedo che adesso, e ne sono assai contento, in tanti si fa questo ragionamento, magistrati che ricoprono cariche altissime nelle istituzioni, professori, professoresse, dirigenti scolastici, in comitato provinciale abbiamo tutti condiviso questa preoccupazione. Noi siamo tutti esponenti delle istituzioni, ma siamo, se vogliamo, anche e soprattutto genitori, cittadini di questa terra. E siccome stiamo tutti quanti vedendo un grande riscatto di Napoli, questa è l'altra medaglia della città che non ci piace e la dobbiamo affrontare prima che sia troppo tardi. Posso dire che tra i primi ho posto questo tema. L'ho posto in un'ottica investigativa da ex magistrato, l'ho posto in un'ottica istituzionale da sindaco, ma se possibile l'ho posto molto negli ultimi tempi da un punto di vista culturale, pedagogico, sociologico, di comunicazione. Quindi c'è un grande lavoro da fare e mi farò anche promotore nei prossimi giorni di alcune iniziative da questo punto di vista, soprattutto nella direzione di sovvertire i modelli. Mettiamo in evidenza di più i modelli positivi in questa città e facciamo capire che i tra virgolette modelli negativi sono solo personaggi di rappresentazioni, ma che non possono essere i punti di riferimento per alcuni bambini e alcuni giovanissimi della nostra città.